in collaborazione con CoopService, Integrated Facility Services. My Generation, il mondo che cambia. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini. La polemica seguito delle violenze da parte delle guardie carcerarie sui detenuti in Santa Maria Capo a Vettere ha raggiunto come era logico i massi livelli dell'amministrazione e della giustizia. Vale la pena ricordare che tutto parte, perché altrimenti non si ha coscienza della cornice, il 6 aprile 2020 dopo le proteste dei detenuti allarmati per il primo contagio nell'istituto penitenziario. Il caso adesso è arrivato in Parlamento, sono scattate le ispezioni, i provvedimenti, le sospensioni. Il ministro della giustizia parla di abusi intollerabili, ma la vicenda non è certo finita. Noi però abbiamo scelto intanto ad attendere un po' di tempo per fare una giusta e congrua riflessione a My Generation e l'abbiamo fatto ancora attraverso l'associazione Antigone che vi abbiamo già fatto conoscere essendo un'associazione per eccellenza a livello nazionale riconosciuta per i diritti e le garanzie nel sistema penale. Abbiamo la fortuna di avere oggi con noi la coordinatrice nazionale di Antigone che è Susanna Marietti, che è già in linea con noi, adesso la vedete e che salutiamo ben volentieri. Benvenuta Susanna in trasmissione. Grazie di questo invito. Dunque questi agenti protagonisti di violenze indagati, ma erano indagati da oltre un anno. Allora la prima domanda che il cittadino normale si fa, c'era bisogno del video per intervenire? Si sente di rispondere? Sì, mi sento di rispondere. Purtroppo altri episodi simili del passato hanno dimostrato che c'è bisogno del video perché troppo spesso ancora sopravvive una cultura di omertà e di spirito di corpo che fa sì che questi eventi non vengano alla luce grazie alle testimonianze. Quindi ci vuole qualcosa di così inanimato come è una cassetta registrata. Rimaniamo Susanna ancora allora su queste cassette, perché vi è in logica la seconda domanda. Tutti abbiamo visto che questo pestaggio è avvenuto sotto gli occhi di quell'impianto video che era attivato. E che cosa è stata l'arroganza della impunità a dettare questa visione che è stata realizzata senza che nessuno si ponesse apparentemente il problema delle registrazioni? Che ci sia un'arroganza da impunità diffusa perché purtroppo i segnali dall'alto non sono nella storia italiana stati netti nel proibire in questo genere di comportamenti. Questo è così. Che però fossero del tutto consapevoli di essere ripresi, ora questo ce lo diranno le indagini, spesso quello che succede è che queste cassette hanno una memoria piuttosto limitata e facilmente vengono sovrascritte. Loro non immaginavano che il magistrato di sorveglianza che noi allertammo immediatamente andò la sera stessa con il buio fuori, andò in carcere e fece bloccare e sequestrare tutte le cassette. Allora questa sensazione di impunità che vedo lei mi conferma da parte degli agenti può aver avuto a che fare con la sottovalutazione che c'è stata senza alcun dubbio a livello politico dell'emergenza Covid in carcere? Quindi partiamo da dove tutto è partito. Ma non metterei in relazione l'impunità della gente violento con una sottovalutazione dell'emergenza Covid. E non parlerei neanche di sottovalutazione dell'emergenza Covid, nel senso che veramente che altro bisogno, noi siamo stati in Italia, siamo stati i primi a dover affrontare questa situazione quando nessuno al mondo sapeva come fare. Voi come Antigone, è importante che diciate come vi siete subito attivati, lo ribadisca? Noi ci siamo subito attivati chiedendo misure di deflazione e chiedendo le carceri al mondo esterno, quindi il blocco dei colloqui, il blocco delle attività dei volontari, venissero spiegate. Noi dicevamo ai direttori andate in reparto, non restate in ufficio, fate assemblee con i detenuti e spiegate quello che sta succedendo, spiegate che sono misure a termine, date dispositivi di protezione, spiegate le misure per prevenire il contagio. Nelle carceri dove questo è accaduto, le misure sono state comprese, non ci sono state rivolte, purtroppo non ovunque è stato così. Sa perché le ho detto quello che le ho detto? Perché ricordiamo sicuramente che, almeno le immagini che la televisione ha passato, i giornali in qualche modo hanno illustrato, era che i detenuti erano veramente terrorizzati dal tema Covid, molte proteste si spiegano solo così e fuori c'era sempre invece chi definiva le carceri. Guardate, non c'è problema, è uno dei luoghi più sicuri contro il virus, ricorda? Me lo ricordo perfettamente, è stato smentito dai fatti, abbiamo sempre avuto un tasso di contagio maggiore all'interno che all'esterno, per fortuna si è evitata la strage delle RSA, ma sarebbe potuto accadere. Nelle rivolte consumate, mi pare, in circa una cinquantina di istituti penitenziari nel mese di marzo, poi non si è più saputo niente. Che fine hanno fatto? Cosa è poi accaduto? Noi abbiamo per quella l'ondata di rivolta, abbiamo presentato tre esposti relativi a tre diversi istituti per presunte ritorsioni violente, speriamo che le indagini vadano avanti. Il mese successivo c'è stata invece Santa Maria Capuavetere, che è stata una rivolta isolata, come lei ha ricordato, dovuto al fatto che si è sparsa la voce che un detenuto era positivo, ma non era un detenuto qualsiasi, era il detenuto quello che passa di cella in cella a prendere le ordinazioni della spesa, eccetera, e quindi il terrore si è diffuso. Cura Italia, un decreto di cui si è detto qualche cosa, ma non tantissimo. Le misure che predispone questo decreto, che cosa dicono? Rendono un pochino più rapido e facile la procedura di accesso alla detenzione domiciliare per chi ha un residuo pena breve, permettono ai detenuti in semilibertà, che sono quelli che la mattina escono dal carcere per lavorare e tornano a dormire dentro, permettono di dormire a casa, perché ovviamente fuori dentro non si può fare, quindi la scelta era sempre dentro sempre fuori, hanno detto per fortuna sempre fuori, sono tutti detenuti che non hanno alcuna prognosi di pericolosità sociale, quindi fanno piccole cose di questo tipo e sono un po' riusciti ad abbassare i numeri, non moltissimo, ma un po' sì. Faccio questo mestiere, Susanna, da molto tempo e io ricordo perfettamente come questo tema si è dibattuto da sempre. Ricordo che allora c'era uno slogan che girava, ma parlo di 30 anni fa, in cui si diceva chiarissime parole, si va in carcere perché puniti e non per essere puniti, lei se lo ricorda perfettamente. Lo ripetiamo ancora oggi. Ecco, vede, ecco, lo ripetiamo ancora oggi, già da risposta alla mia domanda, ma non si è fatto esperienza di niente, compreso del famoso G8? Ora, dire che le cose non sono cambiate per niente dal G8 ad oggi o anche da prima non è così. Per esempio nel 2017 in Italia abbiamo introdotto il reato di tortura nel codice penale dopo 30 anni che le Nazioni Unite ce lo chiedevano. Per esempio abbiamo avuto un processo come quello di Cucchi che ha veramente un po' sporciato un velo e ha dato fiducia a molti detenuti. Io mi ricordo i primi tempi che stavo ad Antigone, i detenuti non denunciavano, erano terrorizzati, non che le violenze non ci fossero. Adesso hanno preso fiducia nella giustizia, quindi dire che non è cambiato niente non è vero. Che però ancora ci sia tanta strada da fare dal punto di vista soprattutto culturale, su questo anche questo è vero. Troppo spesso si continua ad andare in carcere e essere puniti in carcere. Quindi c'è ancora un problema di cultura? Era questo il fondo della mia domanda. La situazione oggi qual è? È in qualche modo rimodulata? C'è attenzione insomma che cosa è successo dall'evento tragico a oggi? Sono passati già parecchi giorni. Da un punto di vista processuale è successo che abbiamo avuto una quantità enorme di misure cautelari a vari livelli, quindi era qualcosa che non si vedeva da moltissimo tempo, quindi ora capiremo come andrà avanti l'inchiesta, però insomma è successo tanto. Dal punto di vista invece del dibattito pubblico il carcere è sotto i riflettori della politica e dell'opinione pubblica, come sempre accade quando c'è un evento di cronaca spesso drammatico e poi dopo però va nel dimenticatoio. Speriamo che questo non accada questa volta. Se esistesse in Italia la possibilità di fare una vera riflessione anche culturale ma prima ancora politica nel senso largo sul carcere, quali secondo lei, vista l'esperienza e anche l'osservatorio privilegiato che avete, sarebbero le priorità? Quali insomma le maggiori criticità di sistema detentivo italiano oggi? Bisognerebbe veramente sapersi interrogare a tutto tondo su che cos'è il carcere per noi, cosa vogliamo che sia quel parallelepipedo che sta appoggiato lì su quella via e dove ci mettiamo dentro delle persone. Oggi c'è una selezione sociale di ingresso enorme, quindi la prima riflessione da fare non è sul penitenziario ma è sul penale. Davvero stiamo usando bene lo strumento penale? Non lo stiamo usando da un lato eccessivamente e dall'altro fuori mira, visto che tendenzialmente ci vanno di mezzo le categorie sociali più deboli? Secondo, una volta che si è dentro, cosa vogliamo che sia? Vogliamo un'espiazione di pena che sia raccordata alla società esterna, calata nel territorio, che il carcere sia un pezzo della società esterna o vogliamo recidere completamente quel pezzetto per poi ricominciare da capo in quella che la Costituzione dice la reintegrazione sociale? Non è meglio non recidere per niente e farci tutti carico del carcere? Insomma veramente un nuovo modello di detenzione che sia aperto al territorio, che non faccia perdere il lavoro, che non faccia perdere l'istruzione? È una riflessione davvero a tutto tondo che dovremmo fare. Susanna, io non voglio che questa trasmissione termini senza che noi, attraverso la sua riflessione, si parli però anche della situazione della polizia penitenziaria, per non fare di tutta un'erba o un fascio, per ricordare che esiste anche il poliziotto che sa fare bene i suoi mestieri, anzi e che speriamo sia la maggioranza, ma la situazione della polizia penitenziaria dentro il carcere qual è? Senz'altro la stragrande maggioranza dei poliziotti penitenziari è costituita da bravissime persone che fanno onore alla loro divisa. Lamentano un sotto organico che effettivamente sulla pianta organica stabilita c'è. È anche vero che se però andiamo a guardare i tassi di proporzione in tutti i paesi del Consiglio d'Europa, l'Italia è uno di quelli che ha un tasso maggiore di agente a detenuto, il detenuto ha quasi il suo agente personale, allora forse bisognerebbe anche pensare a usarli meglio. Detto questo, isolare coloro che usano violenza e che non fanno onore a quella divisa tutela tutte le persone oneste che stanno nel corpo di polizia penitenziaria. Non c'è dubbio, la Costituzione, prendo il fogliettino perché mi ero segnato le parole esatte che voglio leggere, prescrive senso di umanità nel trattamento dei prigionieri, ubbidienza alle leggi che regolano i diritti di ognuno, c'è di mezzo anche la Costituzione, l'osservanza dei regolamenti che governano una comunità complessa come quella del carcere. Almeno una lezione, questo che è accaduto, la possiamo derivare e potremmo titolarla il coraggio finalmente della verità? Sì, per quello che è successo in questi ultimi giorni sì, ma bisogna capire quanto in fretta ce lo dimentichiamo tutto questo e se quindi poi quel titolo lo dovremmo cancellare. Se lo dovessimo cancellare ho la sensazione, Susanna, che le chiederò un altro intervento, un'altra puntata. Intanto noi ringraziamo Susanna Marietti, coordinatrice di Antigone, l'associazione per i diritti e la garanzia nel sistema penale. Da quanti anni vivete voi? Dal 1991, abbiamo compiuto 30 anni lo scorso 18 febbraio. Vabbè, sono 30 anni che sono valsi qualche cosa, si spera. Guai se non ci foste almeno voi a difendere il difendibile. Grazie, a presto Susanna, è stato un piacere ancora una volta incontrarvi e con voi riflettere. A presto. E così chiude anche questa puntata, sperando di essere stati utili come sempre per una sana informazione per una utile riflessione. Alla prossima e mancabilmente. Grazie.